Non un partito ma una lobby, intesa come gruppo di lavoro compatto su tematiche e obiettivi comuni e per una nuova classe dirigente una città a dimensione donna. E' l'obiettivo degli stati generali delle donne, tre giorni a Bari fino a venerdì, per accogliere idee, progetti e proposte da tutte le donne della città. Un work in progress senza nulla di precostituito, indipendentemente dal colore o credo politico, gli stati generali, ha affermato nell'incontro nella sede di Abusuan e Lorena Saracino, tra le promotrici dell'evento, mirano a far scendere in campo per le prossime amministrative e future consigliere per una città di tutte e di tutti, nel rispetto della doppia preferenza, ma anche essere al fianco di chi non necessariamente vorrà candidarsi. Le donne scendono in campo per ridisegnare questa città a dimensione donna, perché noi sosteniamo che le donne abbiano come indole in natura una visione diversa di tutto e quindi anche della città. Oggi Bari è una città invasa dalle donne ma il potere parla al maschile, dove le difficoltà sono conciliare vita e lavoro, poca sicurezza, scarsa offerta culturale, creare dunque una classe dirigente di donne scelte dalle donne con due obiettivi di qualità e quantità. I numeri sono troppo bassi, io faccio sempre l'esempio, il Consiglio Comunale di Bari sono tre, alle recenti elezioni regionali in Basilicata sono zero, questa cosa non si può più sopportare. Qualitativo è portare lo sguardo delle donne soprattutto su tutto. Simona Cuomo, Giusy Giannelli o Monia Magistro sono solo alcune di chi ha scelto di mettersi in gioco. Sabato in una conferenza stampa saranno resi noti i risultati.